Era uno dei mercati settimanali sospesi su decisione del sindaco ed è il primo a riaprire seppur in maniera contingentata adesso che la Puglia è entrata in zona gialla non senza polemiche. I banchi vendita ma solo quelli del settore alimentare sono tornati a Trinitapoli nel giorno dedicato al mercato settimanale. Un ritorno graduale alla normalità che non ha mancato di sollevare qualche protesta subito rientrata da parte delle associazioni di categoria soprattutto quelle in rappresentanza dei settori merceologici dell'abbigliamento rimasti comunque esclusi da questa ripartenza. Questione risolta dopo l'incontro tra i rappresentanti di Casa Ambulanti Savino Montarudi e Rosario Cicciotti dell'ANA UGL con il sindaco di Trinitapoli Emanuele Lo Sapio. Da lunedì prossimo il mercato settimanale tornerà nella sua completezza sempre che non intervengano altre situazioni sulla colorazione della Puglia o di alcune province perché lo scorso fine settimana anche nella BAT si sono sollevate alcune voci critiche sulla scelta del ministro della salute Roberto Speranza di portare la Puglia in zona gialla ma al momento bisogna fare i conti con i provvedimenti in vigore e per questo gli ambulanti chiedono anche che torni in maniera regolare il mercato e nel massimo rispetto delle norme anticontagio. Se quello di Trinitapoli ha riaperto questa mattina si attendono decisioni per gli altri due comuni della zona ofantina Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia anche in questo caso le associazioni degli ambulanti hanno annunciato incontri con i sindaci per trovare una soluzione ora che la nostra regione è tornata in zona gialla.